Quando sono arrivata all'Elida Air Institute, i miei capelli erano fragili e pieni di doppie punte. L'unica soluzione era tagliarle. Per donne come Chiara, oggi c'è lo shampoo nutritivo Dimension Professional. Le sue proteine penetrano nel capello e lo rafforzano. E l'abbiamo misurato, 70% di doppie punte in meno. Ora i miei capelli sono lunghi e sani. Dall'Elida Air Institute di Parigi, nuovo shampoo nutritivo Dimension Professional. La nuova bellezza si misura sui risultati.